Riusogreen.com è il nuovo portale d'eco SPA per favorire la buona pratica del riuso, anche solidale. In modo semplice e gratuito, infatti, potrai regalare oggetti che non usi più. Per registrarti, dovrai inserire il tuo nome, un nome utente e una password, un indirizzo e-mail al quale farti contattare e infine scegliere se effettuare l'iscrizione come privato o come ente no profit. Una volta confermato l'indirizzo e-mail, cliccando sul link che ti invieremo, potrai accedere al sito per inserire i tuoi annunci se sei un privato oppure le tue richieste se sei un ente no profit. Se sei un privato, sarà sufficiente compilare i campi necessari per far sapere chi sei, dove sei e cosa regali. Se invece sei un ente no profit, dovrai prima creare la tua pagina. E solo dopo potrai pubblicare la tua richiesta nella sezione Richieste. Chi vorrà fare un bel gesto potrà scorrere tra le richieste delle Onlus e donare ciò di cui hanno bisogno. Ogni annuncio, privato e non, sarà collegato alla sua categoria di riferimento e alla propria area geografica, così da poter essere trovato con facilità dagli utenti interessati, che potranno richiedere l'oggetto dell'annuncio, contattando l'inserzionista con un semplice clic per concordare tempi e modalità di ritiro dell'oggetto. Tutto questo è riusogreen.com Seconda vita alle tue cose. Un bel gesto per il cuore, un regalo per l'ambiente.